Così come un samurai non lo è senza katana, un tutto a fare non lo è senza taglierino. Dunque il kit di tre taglierini della Parkside di varie misure con relativo set di lame ricambio il tutto a circa 5 euro è finito inevitabilmente nel carrello. La guida rinforzata in metallo, plastiche resistenti e lame ben assortite ed affilate danno decisamente un aspetto professionale a questi taglierini che con le dovute precauzioni permettono di tagliare svariati materiali. Il pezzo forte è sicuramente il taglierino per moquette che con una impugnatura massiccia e lama fatta in un unico pezzo permette di eseguire taglieri che necessitano di controllo e pressioni maggiori. Nel video una breve panoramica e qualche prova di taglio magari utile per valutare se fanno anche al caso vostro. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. Aspetto i vostri commenti, il mi piace e le iscrizioni al canale. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Grazie per la visione. 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 Grazie per la visione.